se oggi perdessi la tua fonte di reddito quanto tempo potresti vivere con i tuoi risparmi se la tua risposta è sei mesi o meno significa che devi fare qualcosa fare azione e guardare attentamente questo video fino alla fine se la tua risposta è più di sei mesi mi congratulo con te e ti mostrerò come fare per poter preservare e moltiplicare questi risparmi il mio nome è maurizio gavosto e oggi voglio parlarti in pochi minuti di un'azienda che può rappresentare l'opportunità di business che stavi aspettando l'azienda chiamata global intergold nasce in europa come negozio online per la commercializzazione di lingotti di oro fisico 24 carati e nel tempo espandendosi si converte in una holding internazionale cioè un gruppo di imprese che oggi dirige tutte le sue operazioni a livello mondiale dal canada con il nome di global success management incorporation questa holding dispone di una potente piattaforma online digitale di business chiamata gig os grazie alla quale collega i produttori di lingotti d'oro da investimento certificati con i compratori di questo metallo prezioso global intergold ha compiuto dieci anni di esperienza nel mercato online a giugno del 2020 ormai a più di 4 milioni di clienti distribuiti in più di 150 paesi nel mondo con un piano strategico di sviluppo e di espansione ha aperto degli uffici rappresentativi in spagna e messico ed ha annunciato l'apertura di altri uffici in india brasile e in altri paesi del mondo dove sta avendo una fortissima evoluzione del business la visione della nostra azienda è quella di dare all'umanità la possibilità di detenere ed accumulare oro fisico da investimento 24 carati e dare subito un'opportunità imprenditoriale a persone di tutto il mondo con lo scopo di migliorare il loro stile di vita il mercato dell'oro è sempre stato molto distretto aperto soltanto a persone con molto denaro e grande disponibilità finanziaria oppure alle banche e dai governi oggi invece qualsiasi persona può avere accesso al loro fisico attraverso le opportunità che presenta questa azienda sia a livello imprenditoriale che di puro acquisto grazie appunto alla piattaforma gig os l'azienda lavora con due profili di clienti il primo è il cliente compratore che ha l'unico interesse di acquistare oro come chiunque acquista prodotti online il cliente si registra la piattaforma gratuitamente ed acquista il suo con propri fondi ricevendolo a casa l'altro profilo è il business partner un cliente imprenditore che oltre ad acquistare oro decide di stipulare un contratto etico con l'azienda per approfittare dell'opportunità imprenditoriale messa a disposizione dalla piattaforma gig os in questo modo generare un reddito in oro o in euro il grande vantaggio di essere business partner è quello di avere accesso ad una serie di servizi e benefici all'interno della piattaforma che ti permetteranno di aprire un tuo personale business dell'oro ti immagini puoi essere il proprietario del tuo proprio business nel settore dell'oro stiamo parlando di un business intelligente che contiene in sé due elementi straordinari primo una piattaforma digitale di business secondo oro fisico da investimento 24 carati qui voglio che prestiate attenzione a questi due elementi primo cos'è una piattaforma digitale di business oggigiorno possiamo accedere a moltissime piattaforme online di business ad esempio netflix uber airbnb amazon alibaba ebay e moltissime altre ebbene sono piattaforme che mettono in collegamento produttori venditori e prestatori di servizi direttamente con i clienti attraverso internet e le nuove tecnologie quindi accessibili da qualsiasi dispositivo pc tablet smartphone eccetera ebbene gig os si basa su questo stesso identico modello di business di successo mettendo in comunicazione potenziali acquirenti del metallo più prezioso con i migliori fornitori del mondo secondo aspetto il prodotto stiamo parlando di oro fisico da investimento 24 carati l'oro fisico di investimento è esente da iva grazie alla legge numero 7 del 2000 e protezione contro l'inflazione guardate la crescita del suo valore negli ultimi 20 anni ha un valore eterno libero da interferenze politiche e ricchezza reale ed è uno strumento finanziario riconosciuto ovunque nel mondo è un bene altamente liquido è convertibile in valuta ovunque nel mondo alle stesse condizioni non è deteriorabile da agenti chimici ed ha un prezzo in costante crescita a medio e lungo termine e quindi ci permette di salvaguardare il nostro potere d'acquisto ebbene i lingotti che offre la nostra azienda sono prodotti da raffinerie prestigiose come ad esempio la nadir raffinerie metals sono raffinerie certificati dai due organismi più importanti del mondo dell'oro la lbma london bullion market association e la dmcc dubai multi commodity center ebbene questi organismi garantiscono che il nostro prodotto è oro di massima purezza ed è conforme a tutte le norme internazionali per la sua estrazione produzione e commercializzazione ebbene riassumendo potrai quindi convertirti in un imprenditore o un'imprenditrice nel settore del loro fisico da investimento ed avere la tua propria piattaforma digitale online grazie alla quale operare e dirigere il tuo personale business per questo l'azienda ha predisposto tre programmi ti spiego in maniera molto veloce come funzionano questi programmi il programma gold set funziona attraverso delle sottoscrizioni o abbonamenti è giusto specificare che una sottoscrizione non è l'acquisto di oro ma l'acquisizione di un pacchetto di servizi e benefici forniti dalla piattaforma per un anno un po come succede ad esempio con amazon prime che magari conoscete ebbene i servizi che offre in questo caso la piattaforma sono lo sconto dell'8 per cento sul prezzo dei lingotti rispetto al valore di mercato custodia gratuita dei lingotti incavo certificati dell'azienda garanzia del completamento delle transazioni online garanzia di 14 giorni di recesso e prezzo bloccato dell'oro per lo stesso periodo possibilità di acquisto rateizzato di oro con i programmi time shift e fixing e molti altri servizi e vantaggi questo programma è stato creato con due propositi per l'azienda quello di espandere il suo business cercando nuovi mercati e ovviamente avere più clienti per il business partner il proposito è quello di capitalizzare da questo programma per avere le risorse necessarie per acquistare oro dalla piattaforma in cosa consiste il lavoro consiste nel promuovere con successo i prodotti e i servizi della piattaforma stessa l'azienda ha sviluppato un sistema che funziona in maniera spettacolare le sottoscrizioni del business partner sono collocate in sistemi contabili chiamati business clusters il business cluster è uno strumento che ci aiuta a controllare visivamente il nostro lavoro vi spiego il funzionamento con la sottoscrizione pro che ha il costo di 385 euro più tasse all'anno e ti permette l'acquisto fino a 385 grammi di oro da investimento in un anno ecco quello che vedete qua è un business cluster quando acquistate la sottoscrizione o abbonamento occuperete una posizione nel cluster il vostro obiettivo sarà quello di completare questo cluster e per fare questo dovrete informare quindi sponsorizzare all'azienda delle persone interessate ad acquistare anch'esse lo stesso abbonamento sottoscrizione pro che voi avete acquistato quando avrete raccomandato all'azienda i vostri primi tre amici clienti occuperete la posizione alla base del cluster adesso la vostra meta sarà quella di completare ognuna delle tre sezioni della parte superiore lo potrete fare presentando direttamente voi più persone all'azienda oppure attraverso le raccomandazioni che faranno i vostri amici con il vostro aiuto naturalmente in questo esempio abbiamo raccomandato all'azienda direttamente Mauro Gianni e Silvano bene supponiamo che Mauro con il nostro aiuto raccomandi tre persone all'azienda come vedete in quel momento si completa la prima sezione del cluster e il sistema ci riconosce 750 unità di ricompensa ogni unità di ricompensa equivale ad un euro per l'acquisto di oro dalla piattaforma in altre parole si tratta di guadagnare 750 euro in oro lo stesso succederà quando completeremo le sezioni successive con raccomandazioni dirette nostre o con quelle appunto dei nostri amici clienti bene riassumendo con 12 persone nella nostra squadra dal business avremo generato 2250 euro per l'acquisto di oro se non desideriamo acquistare oro con questa ricompensa possiamo chiedere all'azienda di cambiare l'equivalente dei bonus in euro pagando un coefficiente e richiedendo un bonifico sul nostro conto corretto il secondo programma si chiama fractal stock program questo programma è stato pensato per le persone che desiderano partecipare come azionisti con proprietari dell'azienda con l'acquisizione di ecn equity convertible notes che sono dei titoli obbligazionari convertibili in azioni avrete la possibilità di guadagni passivi e guadagni rapidi i guadagni passivi consistono nel 14 per cento all'anno pagato in titoli obbligazionari fino al completamento del programma stesso che è fissato nel dicembre 2025 quindi ad esempio acquistando oggi 100 titoli 100 ecn ci ritroveremo l'anno prossimo con 114 titoli più uno special marketing bonus minimo del 6 per cento per i business partner oltre ovviamente la rivalorizzazione del titolo ecn stesso a questo proposito guardate l'incremento del valore degli ecn dalla loro prima emissione nel 2017 ad oggi ma non è tutto perché i titoli ecn della global success management incorporation sono garantiti in oro 24 carati con un rapporto 2 1 quindi ogni 2 euro investito in ecn è garantito da un euro in oro fisico 24 carati per di più sono ereditabili esattamente come nel programma gold set se informate sponsorizzate altre persone interessate l'acquisto degli ecn della società con il programma fractal stock bonus guadagnerete altre unità di ricompensa che potrete utilizzare al 50 per cento per comprare oro e dal 50 per cento per acquistare altri titoli che si è abbiamo delle persone nel nostro team che in un solo giorno hanno generato con questo sistema più di 5 mila euro di guadagno vi andrebbero bene 5 mila euro di un giorno con i tempi che stiamo correndo finalmente l'eccellenza il programma leadership è il nostro programma di carriera si abilita mediante una qualifica unica nella vita quando si realizzano questi requisiti primo indicare nella piattaforma che vogliamo partecipare al programma leadership secondo avendo tre business partner direttamente presentati o sponsorizzati da noi all'azienda terzo accumulare con la nostra struttura e quella dei nostri tre business partner 50 unità di leadership le unità di leadership si generano secondo la seguente formula valore di acquisto dell'intera struttura diviso il coefficiente 700 il risultato sono appunto unità leadership detto in altre parole ogni 700 euro di acquisto all'interno della nostra struttura e della struttura dei nostri tre clienti si genera un punto leadership unità quando avrete accumulato 50 le u sarete qualificati come leader livello 1 da quel momento parte la vostra carriera da leader che è formata da 15 livelli e comincerete a ricevere dei bonus o delle royalty su tutti gli acquisti generati all'interno della struttura senza limiti di profondità in altre parole comincerete a generare l'unico reddito che può darvi la vera libertà finanziaria il tipo di reddito che meno del 5 per cento della popolazione mondiale genera sto parlando dei redditi passivi ebbene vi piacerebbe guadagnare denaro più e più volte per un lavoro fatto una sola volta in passato è il tipo di reddito che generano i cantanti gli investitori gli autori di libri e ovviamente i leader di gigos e adesso voi potete essere uno di loro non entrerò nei dettagli tecnici ma voglio mostrarvi soltanto alcuni esempi di reddito passivo di un leader livello 5 della nostra squadra immaginate cosa vorrebbe dire generare da 500 a 1000 euro al giorno di reddito passivo quanto rappresenterebbe questo nella vostra moneta locale come cambierebbe il vostro stile di vita cosa ci fareste con questo denaro ebbene vi starete domandando ok ma cosa devo fare la risposta è semplice prendere una decisione ricordate è una vostra decisione non sono le circostanze che determinano il vostro futuro è importante che voi sappiate che noi abbiamo il know how abbiamo una metodologia un sistema di lavoro simile ad un franchising nel quale l'unica cosa da fare è imparare ed implementare non dovete inventare e scoprire nulla la nostra metodologia è comprovata da anni e da persone che hanno raggiunto il massimo successo nel nostro business sarete affiancati da una squadra pronta ad aiutarvi fin dall'inizio ebbene ti invito a fare azione e recuperare il controllo delle tue finanze del tuo tempo e della tua libertà approfittiamo di questa quarta rivoluzione industriale e dei benefici che può portare questa era digitale contatta immediatamente la persona che ha condiviso con te questa informazione ed inizia a costruire il tuo business io il mio nome è maurizio gavosto ci vediamo nel team italia ti auguro salute successo e benedizione per te e la tua famiglia ciao 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 ciao